Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta frolla al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora e trenta. Gli ingredienti sono farina doppio zero, cacao, lievito per dolci, vanillina, sale, uova, zucchero e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo lo zucchero nel boccale. Andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a riunire un po' sul fondo. Andiamo ad aggiungere il burro, burro morbido. Andiamo ad amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Andiamo un po' sul fondo. Andiamo ad aggiungere l'uovo. Il sale, un pizzico di sale. E la vanillina. Andiamo ad amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Andiamo ad aggiungere la farina. Il lievito per dolci. E il cacao. Andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi a velocità 5. Il nostro impasto è pronto. Andiamo a riporre in una pellicola trasparente e mettiamolo in frigo per almeno un'ora. Usciamo la frolla dal frigo. Andiamo a toglierla dalla pellicola trasparente. Andiamo a posizionare un foglio di carta da forno. Possiamo stendere l'impasto con il mattarello tirandolo tra due fogli di carta da forno. Può essere utilizzata come base per crostate o per i biscotti. Va cotta in forno a 180 gradi per le crostate tra 15 e 20 minuti per i biscotti tra 10 e 15 minuti. Pasta frolla al cacao. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.